FIENZE SMART Lavori per l'intervento di manutenzione straordinaria destinato alla rettifica del tracciato stradale A Firenze in via Mariti fino al 7 luglio in vigore restringimenti di carreggiata a tratti con chiusura del varco di collegamento tra le direttrici all'altezza del numero civico 6 Infine per i treni è nato uno sciopero del personale di Trenitalia, Trenitalia TPR, Trenord e Italo I treni potranno subire cancellazioni o variazioni ed è tutto, buon viaggio! FIENZE SMART